Poi rimane sempre a 50, la quanta salvezza oppure secondo voi si è abbassato un po'? Tra i 48 e i 50 punti, devi cercare di riuscire a fare sia noi che loro almeno altre quattro vittorie, poi rosichiare qualche punto fuori casa e permetterti di perdere qualche partita, però a 48 e i 50 penso sia la cifra in cui ti puoi salvare. Vorrei sapere se è vero se ti risulta che a gennaio potevi venire al Padova. Erano due giocatori che piacevano a Padova. Sì o no? È vero? Tanto ormai... Uno era lui e un altro era Espinato. Posso dire che si dicono un sacco di cose e c'era anche una mezza cosa che... Tu ed Espinato, eravate i due più chiacchierati. Quello devi chiedere a lui. Calori, grande allenatore. Io non posso che rispondere di sì, perché con noi ha fatto qualcosa di meraviglioso. Va al di fuori dell'anno perfetto che abbiamo passato noi giocatori, ma lui e il suo staff ci hanno messo tanto per farci rendere al massimo, per farci legare tutti quanti insieme. Il sogno sta diventando realtà. Il Porto Aulo lo davano tutti per spacciato. Per questo io ho fatto questo titolo. Il sogno diventa realtà. Sta diventando realtà. Speriamo. Ma te lo chiedo a te? Per me... In questo momento no, non ancora. Però so che la strada di Piacenza è quella giusta. Da la retrocessione sicura, adesso c'è la possibilità, la realtà è che potete giocare le vostre cartucce per la salvezza, insomma. È vero, questo è vero. Però sappiamo che è davvero dura. È tanto dura. Dobbiamo continuare sulla fascia di Piacenza, perché sono le prestazioni che ci hanno dato più risultati. Noi giocando a Porto Gruaro ci dobbiamo adattare tanto alle situazioni. e una di queste è il fatto che non ci deve mai mancare la forza, la voglia di non mollare mai e sperare che questo sogno diventi veramente realtà. Dimmi l'esultanza, perché è così? No, è una cosa veramente tanto vecchia, che avevo visto fare, ma nessun simbolo, nessun gesto, nessun riferimento, non è niente di particolare. È istintiva così. Sì, sì. E questo è un tipo di, come dire, un colpo che tu hai nel tuo repertorio o ti è venuto in occasione di Piacenza? Diciamo che ci provano, per queste situazioni qua sono il riferimento da quando è arrivato Agostinelli. E quindi non ce ne capitano tante di punizioni. E quindi è una cosa che, diciamo, sì, potrei avere, penso di avere. Calori, Viviani e Agostinelli. Sono tre allenatori, probabilmente, che hanno tre modi diversi di gestire il gruppo. Però con Agostinelli state tirando fuori il meglio di voi stessi. Che cosa ha in più lui, forse? Ecco, guarda i gol. Beh, sicuramente ha molto più esperienza del mister precedente, perché comunque era la prima esperienza importante, quella di Viviani. E poi diciamo che nel momento in cui abbiamo avuto quel periodo di 14 partite, che comunque ci hanno relegato là sotto, che non riuscivano a vincere, ci eravamo un po' piattiti. Non era riuscito a darci quella forza per ritirarci su. Sembrava una squadra piatta che non aveva più niente da dire. È arrivata Agostinelli, tanto l'ha segnata. Quella era la sensazione che vivevi in settimana, durante le partite. Cioè, era la sensazione di non poter mai reagire, di non poter mai fare niente di più. Invece è arrivata Agostinelli, ci ha parlato, ci ha preso uno per uno, ha detto, secondo me siete questa squadra qua, sta portando avanti dei valori che secondo me sono giusti, per non solo noi giocatori, ma per il Portogruaro. Secondo me è un po' questo che ha fatto la differenza fra la gestione prima e quella di adesso. Secondo me è una cosa che aveva un po' questo che ha fatto la stazione… Grazie a tutti.